Incensi e profumi per ambienti potenzialmente cancerogeni e poi orecchini, bracciali, collane, anelli, diversi preziosi falsi e forse tossici. Sono oltre 23.000 i prodotti non in regola con la normativa sull'etichettatura rinvenuti e sequestrati dalle fiamme gialle del Comando Provinciale di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake a tutela dei consumatori e della salute pubblica contro il commercio del tarocco e la riproduzione illecita di beni. Nel dettaglio, bastoncini di incenso per ambienti di varie fragranze e colori, non conformi ai criteri previsti dal Codice del Consumo e pericolosi per la salute a causa del rilascio in fase di combustione di sostanze altamente tossiche ed irritanti per le vie respiratorie. Componenti che in varie forme possono dar luogo persino a problemi polmonari, peggiorando i sintomi dell'asma, ma possono anche provocare vertigini, irritazione agli occhi, mal di testa e perdita di memoria. Non di meno, i pezzi di bigiotteria sequestrati per mancanza di packaging adeguato ed informazioni sull'eventuale uso nella loro realizzazione di materiale tossico del tipo nickel, posti a contatto con la pelle, possono scatenare molte reazioni allergiche per la presenza di elementi organici vietati dalla legge europea perché provocano eczemi ed arrossamenti. I prodotti non sicuri sono stati trovati esposti in vetrina o sugli scaffali, fra la merce venduta regolarmente, da un giovane shopper cittadino del Bangladesh durante le ispezioni condotte dai finanziari nei confronti dei negozi di caselinghe e di bigiotteria. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio per detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti. Nei suoi confronti è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di oltre 25.000 euro.